L'umiltà apre le porte del cielo. 24 giugno 1976. Figli miei, sempre con gioia accolgo la vostra preghiera fatta con fervore e con umiltà di cuore ed io unisco la mia preghiera alla vostra e la presento al Padre. La mia preghiera è eterna. È onnipotente. È la preghiera del Figlio. È la preghiera umile dell'uomo Dio. Figli. Quanta necessità sia nel mondo di questa preghiera umile. In questo mondo in cui trionfa il demonio con la superbia. Io vi voglio veramente quelle piccole anime che devono trasformare il mondo. Siate piccole. Sempre piccole anime tanto a me care. piccole per confondere le grandezze fatue del mondo. Piccole per poter penetrare sempre più a fondo nel mio cuore. Piccole per poter un giorno far parte della mia schiera. Schiera delle anime. Ostie. Che, essendosi fatte tanto piccole. Meriteranno una gloria infinita e particolare. Sapete, figli. Che due cose vi sono indispensabili per entrare in Paradiso? Il battesimo e l'umiltà. Il primo. Perché purifica le anime e le unisce nel mio corpo mistico. L'umiltà. Perché la porta del cielo è piccolissima e solo agli umili si apre. Figlioli. La festa del mio cuore sacratissimo vi trovi in questa disposizione d'animo. Che voi possiate vedere sempre la vostra nullità e la vostra miseria. Che voi possiate aver sempre un grande rispetto di tutte le anime e che possiate, avvicinandole, far amare l'umiltà. Che voi sappiate riconoscere a Dio ogni merito e che ogni vostra azione possa dare a Lui onore e gloria. Vi darò abbondanti grazie. Intanto vi accolgo nel mio cuore pieno di bontà e di misericordia e vi benedico. Più sarete piccole e più il mio amore abbraccerà in voi tutta la vita.